adesso oggi la dea che chiude la sua permanenza qui a trisuti io sono fiducioso che sotto il direttore stefano petrocchi chimica il futuro del monastero sarà assicurato ovviamente per quanto riguarda se vi permetto a dire una parola personale io sono stato fatto fuori di questo monumento senza mai essere condannato da da nessun tribunale per nessun reato ogni mio diritto è stato calpestato per arrivare a questo punto come penso voi saprete io ho partecipato al bando con regolar autocertificazione dunque se ci fosse la mendacità e assolutamente non c'era avrei sperato di presentarmi davanti il tribunale penale a giustificare il mio condotto questo non è ancora successo non voglio dire più di questo perché a novembre faremo questa causa ma mi ripeto ogni diritto ogni diritto che un che uno deve avere è stato ignorato e distrutto al movimento della della sinistra per far finire la presenza della dhi qui chiudo a dare qualche parola di ringraziamento a chi mi ha sostenuto qua ovviamente voglio ringraziare il priore l'ultimo priore di ci sulti don ignacio rossi voglio ringraziare roberto sarandrea carlo pelle galli e giovanni accettola perché un luogo non è solo un edificio di mattone anche sono le persone che stanno dentro che stanno la storia e senza di loro per me ci sulti non è non è ci sulti voglio ringraziare ovviamente steve bannon che mi ha sostenuto in tutto questo periodo sono molto grato per la sua lealtà anche se la sinistra non mi ha mai detto questo voglio ringraziare steve bannon sulla parte della sinistra perché come sappiamo tutti la sinistra è stata in decadenza per anni in fallimento imbarizzante e grazie proprio a questo personaggio ci sono riusciti a trovare un po di spazio mediatico dunque sarei mancante se non ringrazio sulla parte della sinistra proprio questo personaggio che le ha fatto vivere un po non c'è stata nessuna irregolarità e ogni sede che giurisdizione a pronunciarsi ha confermato la regolarità della del condotto della dhi nel bando sia la commissione giudicatrice che il giudice del del primo grado quello che ha fatto se non se non sapete la storia quello che ha fatto in secondo grado il giudice o come trump direbbe il cosiddetto giudice stefano toskay è proprio sciocante per entrare un attimo attimino nel dettaglio della storia qui lo strumento legale che il ministero ha usato per annullare questa concessione e del procedimento amministrativo articolo 21 non es e dice chiaramente che la pubblica amministrazione ha 18 mesi per annullare in auto tutela una concessione e se vuole agire dopo questo deve avere una sentenza passata in giudicato dal tribunale penale che accerta la mendacità altro che 18 mesi il ministero ha annullato la mia concessione a 18 mesi e ovviamente abbiamo vinto alta al consiglio di stato è un documento pubblico potete sempre andare a leggerlo in internet questo stefano toskay ha detto sì sì è vero che la legge dice che il ministero deve agire entro 18 mesi però la pubblica amministrazione ha una lunga giurisprudenza ad agire oltre questa è la è il motivo senza ogni fondamento ogni fondamento che il ministero ha usato per farmi fuori qua perché non c'era niente di sbaglio con il bando niente dunque io dicono che la legge uguale per tutti ma vorrei sapere cosa succede se uno non pagasse le tasse ma ripetutamente e poi dice sì sì non ho pagato le tasse quest'anno però una lunga giurisprudenza a non pagare le tasse se la legge veramente uguale per tutti dovrebbe avere la luce verde no vado a roma per la roma vicino vicino al centro storico grazie mi dispiacerà se per sempre di a di dove lasciare trisutti perché sono stato qui da 2015 il mio cuore sta qua però non mi dispiacerebbe tornare a roma tutto sommato stare in un luogo tutto questo luogo fino compreso san domenico la pazzia lì questo luogo qui è stato dedicato a gesù cristo per mille anni ma più di mille anni stare qui nel nel attorno se posso dire agli spiriti dei santi monaci che hanno vissuto tutta la loro vita qua è una ispirazione anche a me posso dire questo anche il luogo si trasmette questa storia è impossibile per secondo me non essere toccato da questa storia ciao a tutti ciao ci vediamo marizio grazie grazie vado prendo la macchina e poi vado ciao è stato un piacere e una gioia passare cinque anni fra di voi ok come voi let's go ok